Eccom'è qua, bella a tutti dal vostro Gabomen, siamo tornati con un nuovo video in PES 2015, questa è una partitozza online, ho beccato un avversario di tutto rispetto perché vedo una marea di fenomeni, Neuer, Alaba, Ramos, Boateng, Lam, Vidal, Goetze, Di Maria, Bale, Benzema e Depay, perfetta, abbiamo fatto l'unplan, io direte comincia subito la partita, questo si chiama Kung Fu Metas Club, consigli del gioco, finta di passaggio, quante volte l'avremmo fatto, io ho preso per culo una marea di avversari, facciamo finta di rimettere la palla col portiere e poi ce la teniamo noi, bene così, vediamo il secondo consiglio del gioco, My Club agenti, me sono rotto le coglioni di leggerlo, manco più ve lo leggo perché l'abbiamo capito tutti che bisogna contattare gli agenti per trovare giocatori in My Club, eccoci qua, io direi con la regia, subito di passano, azione di quelle esagerate, ammazza che regia, eccolo qua, Griezmann, palla per Ibra, Ibra passa a Messi, Messi, Ibra, Messi, Ibra, praticamente 800 passaggi, arrivo in aria di rigore, eccolo, cerco il cross, cerco il colpo di testa che non arriva e questo mi sa che si è salvata la grande, direi proprio di sì, quindi, mo' c'è prova però, mannaggia la miseria, devo stare attento, Benzema, ammazza come cazzo, non la legge la palla, De Pai, oddio, De Pai, solo, tiro di De Pai, parata e calcio d'angolo, quindi, oh, non ho fatto un tempo, porca miseria, primo calcio d'angolo della partita, bisogna stare attenti perché uno attacca ma poi, vedete, arriva al contropiede e magari me la buttano pure dentro, quindi, questo batte il calcio d'angolo, butta fuori sta palla, no, l'ho parata, so' contento così, in modo che a me attacca, palla per Ibra, il passaggio è per Messi, oddio, Messi, ma, ma, ma puoi essere rigore, ma che sei matto, ma te l'avrà cacciato sicuramente, ma non stai bene di cervello, figlio mio, eh, incredibile, vabbè, molti segni, allora, perfetto, Alaba, gliel'hanno cacciato, io la metto, diciamo, col mirino che la metto là, per chi non lo sapesse, premete R1 e compare il mirino, oddio, ma, ma porca puttana, non ce posso credere, sto senza parole, me l'ha parata, ma vaffanculo, calcio d'angolo, Wesley Snyder, mo' ce riprovo subito, mannaggia la miseria, guarda, sto rosica come una bestia, e mo', tu guarda che questo non mi segna, perché tanto, sempre così succede, eccolo qua, Eduard Gangia 69, mamma mia, questa è una squadra piena dei vizi, oddio, 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 ma non ce posso credere, ma ha segnato veramente, ma l'imortacci vostra, ma che cazzo sta succedendo, ma sto su scherzi a parte, oddio, questo me ne fa un altro, oddio, questo me ne fa un altro, ma l'imortacci sua, incredibile, io mo' devo reagire, ma siamo già alla fine del primo tempo, c'è prova, vedremo che succede, Messi, il passaggio è subito da Ibra, Ibra, oddio, tiro da Ibra, che cazzo ha sparato, no, vabbè, questa è la classica partita che non entra manco, non lo so io, cioè, manco se gli prego, se mi metto a pregare, incredibile, vabbè, Wesley Snyder ha ancora un altro calcio d'angolo, io ce riprovo, parte ancora il cross, cerco il colpo di testa, e calla, il colpo di testa non arriva, passiamo subito all'azione del secondo tempo, questo, oddio, questo ce riprova, mamma mia, ma che, ma che cazzo sta succedendo, ma io non ce posso credere, ma davvero stiamo così, no, non me in cazzo, non me in cazzo, subito, dai, dobbiamo cercare la reazione immediata, eccolo qua, Dani Alves, il passaggio è per Vital, Vital, Ibraimovic, dai, questo è solo davanti al portiere, tiro da Ibra, parata lì, mortacci, ce riprova ancora, non me lo concede, oddio, oddio, mamma mia, comunque questa partita è un'antuzzichella, mannaggia la miseria, passiamo un'altra azione, cerco di essere aggressivo, come se ho scoperto troppo questo altino, per fortuna è uscita, 2 a 0, ma devo cercare assolutamente la reazione, mo ce provo, vediamo che riesco a combinar, nel frattempo faccio entrare Lewandowski e Neymar, eccolo subito Lewandowski, oddio, tiro da Lewandowski, eccolo qua, 2 a 1, dai, è rapidissimo, io continuo ancora a provarci, dai, continuo l'attacco, passaggio, Vital, passaggio al centro per Lewandowski, tiro, oddio, tiro, eccolo qua, mamma mia, ma è stata rapidissima qua la situazione, mi ritrovo sul 2 a 2, 2 azioni, 2 reti, oh, e che cavolo, me doveva di bene, comunque da come era cominciata, se diceva proprio, bene così io mo ce provo, perché mica mi arrendo qua, ne voglio un altro, oddio, palla per Lewandowski, eccolo ancora, Lewandowski, mamma mia, abbiamo praticamente ribaltato il risultato del giro dei 2 secondi e ce ritrovamo 3 a 2, e mo voglio al quarto, e mo voglio al quarto, mamma mia, che partitona ragazzi, 93esimo minuto finisce qua, so riuscito a recuperare la partita, oh, ammazza il culo, bene così, quindi abbiamo vinto 9 tiri a 5, 8 tiri a 8, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, detto questo io mi andrei a fare qualche pescatozza con gli agenti free, perché ci sta sempre bene, anche perché ne devo smaltire 222, quindi bene così, allora, vediamo un po', che si può fare qua, Europa, no, non mi piace, mettiamone una casaccia e vediamo quello che succede, contattiamo le trattative, ingaggiamo il giocatore, eccolo qua, dai che questo è oro, forza, forza e coraggio, dai, schiacciamo, ecco l'oro, ecco l'oro, ecco l'oro, è argento, bene, vediamo un po' chi è questo, chi è? Chi sei? Mac Leary? Oh porca puttana, questo è forte, oh, 74 di VGG con 47 di tecnica non si può guardare, 85 di velocità si può guardare come, 62 di fisico, è giamaicano, gioca nel Berkshire Blues, non so che cazzo di squadra è, famose subito un'altra pescata, perché oggi c'ho voglia di smaltinne qualcuno, allora, direi che Eda dovrebbe essere buono, poi in se sa mai, vediamo quello che succede, ingaggiamo il giocatore, se continua, eccolo qua, facciamo girare le palle, schiaccio in questo momento, fermete sull'oro, fermete sull'oro, sull'oro non c'è se ferma, guarda che se ferma sul bianco, guarda che se ferma sul bianco, è bronzo, bene così, chi è questo? Fate vedere, Assurin, mamma mia, mi pare una supposta, una supposta è praticamente, dice me dai un paio di Assurin, me devo stringere un po' perché ho cagato troppo, bene così, eccola qua, passiamo ancora un'altra pescata, io direi da nascasaccio proprio alla come capita capita, dai, fermete sull'oro, no, sull'oro non c'è ferma, è una via di mezzo, è argento, vediamo chi è questo? Allora, chi sei? È Fofana, ammazza tutti i nomi strani oggi, non si può sentire manco Fofana, comunque, un 74 de VGG con 58 de tecnica, 43 de velocità, in fisico di quelli della Madonna, addirittura da 71, francese, gioca nel Lione, ha 23 anni, è onnipresente, se vi capita a sti giocatori, io non lo smetterò mai di dirvelo, mediano e difensore centrale con onnipresente o mastino, sono delle vere bestie, quindi in quel caso non guardate la valutazione generale, ma guardate lo stile del gioco, detto questo io vi saluto, vedo appuntamento alla prossima partita, bella a tutti raga, ciao!